Sì, non sono i tempi degli anni 70-80 quando l'Avellino era in Serie A, ma c'era tantissima gente, tantissimi ragazzi, anche meno che trentenni e questo dimostra che l'Avellino è nel cuore degli Irpini, ovunque si siano, fuori degli Irpini, all'estero ma anche ad Ariano. E' stata una bella manifestazione, c'era Taccone, c'era De Vito, c'era il Capitano D'Angelo, c'erano altri giocatori, tanta partecipazione e tanto entusiasmo. Taccone ha detto, gli abbiamo chiesto se avessi parlato con lei di possibili imprenditori, ha detto sì, Gambacorta mi dà anche una mano, ma imprenditori Irpini non ce ne sono. E' vero, si registra questa solitudine degli imprenditori che investono nello sport, questo vale a tutti i livelli, vale per il basket, dobbiamo sempre ringraziare De Cesare per quello che sta facendo per la Scandone, ma vale anche per il calcio minore, sono sempre meno quelli che investono, la crisi delle attività produttive, delle attività del terziario riguarda ovviamente anche gli investimenti in questo settore. Un grande appassionato di Scandone, questo primato, questa squadra che vola, il segreto qual è? Quello di sapersi rinnovare, scegliendo sempre il meglio che c'è sul mercato del basket, però avendo tantissimi tifosi anche qui di tutta la provincia vicini, il palazzetto dello sport nella gara contro il Bologna era strapieno in ogni ordine di posti ed è veramente un piacere vedere una piccola città come Avellino che è in testa ad un campionato così importante. Insomma, non facciamo gli scongiuri, non diciamo quello che deve accadere a partire dalle finale, speriamo che il campionato vada avanti così fino alla fine. Per chiudere, cosa pensa la candidatura di Cosimo Sibili alla presenza della FGC? È una candidatura molto autorevole, tanto Sibili è un vincente, in politica ha sempre ottenuto risultati eccellenti, nello sport quando si è cimentato la stessa cosa. Il calcio sa rigenerarsi, credo che questa, però ci vuole anche un presidente che sia capace di cambiare un po' le regole, perché probabilmente qualcosa va cambiato nel meccanismo del calcio italiano in questo momento.